Buongiorno Guido, siamo tornati a trovarti, ormai ci conosciamo da quanto? Quattro anni? Quasi cinque. Sei il nostro cliente più anziano e più tenace. Il metodo è molto valido. Sei riuscito a vedere le cadute di Varroa dopo trattamenti termici, le avete monitorate anche negli anni, insomma siamo ormai in quattro stagioni, quindi credo che... Il nostro lavoro l'abbiamo fatto negli ultimi due anni. Comunque il compresso è andato molto bene. Quindi lo consiglierebbe ad altri apicoltori come Biotecnica?